A Benevento cominciano le grandi manovre in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Ieri sera un confronto fra i fedelissimi del sindaco in carica Fausto Pepe ha segnato una nuova puntata nel percorso di avvicinamento all'appuntamento con le urne, nel quale il PD sarà chiamato ad una scelta complicata fra l'unità o la conta delle primarie, perché altre prospettive non sembrano esserci. La fascia tricolore sannita infatti ha detto a chiare lettere che il suo successore dovrà essere necessariamente un nome condiviso da tutte le sensibilità democratiche. Impresa non facile, ma che comunque testimonia la volontà di sedersi intorno ad un tavolo per provare a fare sintesi. Qualora questa strada risultasse accidentata o comunque di complicata percorrenza, allora l'unica alternativa possibile è quella delle elezioni primarie, ossia una conta in piena regola nella quale vincerà chi avrà maggiori munizioni in senso elettorale a disposizione. Dopo aver mandato in archivio con successo, pur si affatica, i principali ostacoli ancora sul cammino amministrativo, debiti fuori bilancio e strumento finanziario, Pepe e i suoi si possono dunque dedicare con maggiore attenzione alla partita squisitamente politica delle elezioni comunali in programma il prossimo anno. Sullo sfondo restano le prospettive, tutte da definire, di una possibile alleanza con le forze centriste come Udc e Ncd, ma al momento lo sforzo principale sarà indirizzato sulla ricerca di un'intesa tutta interna al Partito Democratico.